A Bagnoli sono iniziati questa mattina i colloqui con le agenzie per il lavoro che selezioneranno parte dei lavoratori da reclutare per i prossimi interventi di bonifica. L'incontro fra il commissario straordinario e il comune di Napoli con le associazioni e i comitati del territorio ha dato forma giuridica ad una peculiare clausola sociale per le imprese che vinceranno gli appalti. Tali imprese saranno invitate ad assumere una quota di lavoratori del territorio. Prima giornata di profilazioni, la prima di due giornate, una il 24 e una il primo luglio dove c'è appunto un incontro tra domanda e offerta lavorativo. I giovani e le giovani del territorio possono ritornare a sperare di essere appunto impiegati e impiegate all'interno dei processi di bonifica che riguardano questa zona. È stata una delle lotte che più ci ha impegnati negli ultimi mesi. È la prima iniziativa seria che vede coinvolti e coinvolte i giovani e le giovani del territorio e non giovani e meno giovani. I colloqui di selezione che si svolgono nell'auditorium della Porta del Parco proseguiranno lunedì 1 luglio. Grazie a un protocollo di intesa, un accordo sottoscritto tra le imprese, il commissariato di Bagnoli e il comune di Napoli, le imprese che realizzeranno gran parte dei lavori di bonifica ma non solo nell'area di Bagnoli si sono rese disponibili ad assumere giovani e non solo del territorio. Quindi è per questo che abbiamo organizzato insieme a delle APL che ringraziamo per il loro contributo, delle agenzie per il lavoro stanno selezionando delle persone che potranno quindi appunto essere assunte nelle varie posizioni che le imprese ci hanno messe a disposizione. Ci auguriamo che questa sia un'opportunità importante quindi non solo per le imprese che realizzeranno il lavoro e quindi daranno una nuova vita all'area di Bagnoli ma che possa essere anche un'opportunità importante per le tante persone che oggi e lunedì prossimo si presenteranno a questi colloqui e che in questo modo ci auguriamo possono avere una grande opportunità di lavoro nella nostra città.